E se vi dicessi che a Verona è possibile dormire a casa di Giulietta? Ecco 5 più 1 consigli da salvare per il tuo weekend romantico a Verona. Oh Romeo, Romeo, perché non hai soggiornato a Relais Balcone di Giulietta? Avresti avuto una meravigliosa vista sulla casa museo e l'accesso esclusivo anche di notte. Qualcuno doveva pur dirglielo, ma proseguiamo tempo di colazione, dolce o salata. Regalatevi una vista emozionante seduti tra i tavoli della costa in bravo. Se poi per pranzo rimanete in zona, sempre sul famoso marciapiede Liston, fronte arena, prenotate dall'Olivo 1939. Prossima tappa romantica è il Pozzo dell'Amore di Corrado e Isabella. Conoscete la leggenda? Ve la racconterei se non fosse il momento sacro dell'aperitivo che dovete assolutamente fare in Piazza Erbe, seduti in un locale storico, Casa Mazzanti. E prima di salutare Verona, al tramonto regalatevi un'emozione dal punto panoramico della città, Castel San Pietro.